Ok, in questo video vediamo Udon ma con un sistema molto interessante anzi con due plugin che ho trovato che funzionano molto bene in cui è possibile innanzitutto fare il test di una scena da dentro Unity senza dover lanciare via rechat e inoltre è possibile usare dei programmi che permettono dei programmi tipo C Sharp invece che usare l'Udon Graph l'Udon Graph è molto carino ma secondo me per fare cose anche banali di questo tipo è già troppo verboso vi faccio vedere innanzitutto le due estensioni si chiamano una è la Udon Sharp e l'altra è il Cyan Emulator il Cyan Emulator permette di fare il play direttamente qua dentro quindi se io premo play succede che nella stanza che ho costruito con l'Udon Sharp o l'Udon particolare ecco, vedete che parte e sono direttamente in test in questo caso ho fatto un test in cui posso, vedete che posso anche interagire use e quando interagisco clicco clicco compare un oggetto grosso quindi clicco di nuovo e sparisce quindi è soltanto una cosa banale adesso vi faccio vedere come è fatta in Udon Sharp e comunque abbiamo ancora la parte di Udon in cui se io passo qua vedete che vado nella mia entrata segreta e quando esco dall'entrata segreta in pratica riappare il muro quindi è la cosa che vi ho fatto vedere prima allora adesso vi faccio vedere solo come si allora qui facciamo escape chiudiamo qua e vediamo come funziona cioè nel senso ho aggiunto asset import package custom package e ho aggiunto sostanzialmente due package una si chiama Udon Sharp versione 0.19.2 e l'altra si chiama Cyan Emu ora come vedete Cyan Emu è piccolissimo 49k e Udon Sharp è 3,21 MB quindi sono piccolissimi tutto questo da aggiungere al VRCS di K3 che avevamo già scaricato quindi dove li troviamo questi Udon Sharp eccetera semplicemente andiamo a cercare quindi Udon Sharp Download anzi Unity Package probabilmente vedete MerlinVR Udon Sharp da qua avete le istruzioni a noi interessa il link latest release quindi questa questa release praticamente vi fa scaricare Udon Sharp V019.2 in Unity Package 3,22 MB invece l'altro cian emu cian laser cian emu questo qui è un altro è un altro programmino sempre molto semplice che consente di andando su release andate qua 12 giorni fa e scaricate cian emu v032 Unity Package ok e poi la importate col modo solito ora come si fa ad usare il allora vi ho già fatto vedere il cian emu che non cambia niente solo che dà una nuova dimensione al al play che prima non funzionava se non avevate cian emu facevate play ma venivate fuori cioè in pratica succedeva che vedevate la scena da fuori come la fa vedere adesso tra poco aspettate che ci impiega un attimo a partire questa scena vedete e poi adesso qui entra ma altrimenti non si poteva fare niente e invece per quanto riguarda la scrittura di un codice allora vediamo un po' questo qui che lo clicchiamo ecco manina anzi freccine lo clicchiamo vedete che qui c'è un Udon Behavior e c'è uno script che in questo caso si chiama Muro che se faccio doppio clic si vede lo script e lo script è un normale è un normalissimo script C Sharp la differenza è che invece di estendere Mono Behavior estende Udon Sharp Behavior e poi dentro c'è una funzione che dice cosa fare quando si clicca e tra l'altro se avete visto il mio video su Unity dove facevo vedere come si faceva a rendere attivo un pannello e lo facciamo praticamente nello stesso modo quindi tutto ciò che sappiamo di Unity sembra conservarsi e in più gli ho messo un'altra piccola funzionalità sempre di Unity che fa ruotare l'oggetto quindi in questo modo gli ho messo la rotazione qui gli ho messo un Public GameObject perché gli dico qual è l'oggetto che deve attivare e disattivare ed adesso vi faccio vedere come effettivamente scrivere uno script U Sharp da zero quindi la tecnica è super giù questa quindi si va nella 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 nostra scena costruiamo un cubo un altro cubo ad esempio quindi facciamo GameObject creiamo un un altro cubo ce la portiamo più o meno in vista qua ecco questo cubo vogliamo metterci il touch tipo quello quindi è molto semplice in realtà prendiamo lo script di prima che era muro e che praticamente lo ruota e permette di toccarlo e gli diciamo che possa far apparire o sparire altre cose magari facciamo apparire o sparire proprio questo oggetto quindi come si fa quindi avendo cliccato il nostro oggetto add component Udon quindi Udon Behavior qui quando si fa il new program e c program asset praticamente lui si definisce un nuovo un nuovo programma ma è possibile dirgli di sostituirlo con quello che ci interessa quindi noi possiamo qua vedete che c'è il il create script quindi vabbè gli facciamo creare uno script nuovo facciamo cube1cs ma in realtà dovremmo poterlo modificare nel senso che clicchiamo su questo sul nostro cubo vediamo un po' se ce lo fa ok sta facendo un po' di compilazione quindi VRChat SDK purtroppo c'è questo piccolo disagio che devo riuscire a cambiare vedete che qui c'è un cube1 che è il suo script ma noi prima avevamo fatto negli asset avevo fatto il muro questo muro se lo clicchiamo questo gliela possiamo mettere al posto quindi il nome è un po' sbagliato avrei dovuto chiamarlo ruota attiva al tocco o qualcosa del genere lo prendo lo metto dunque in teoria è riuscito a modificarlo prima quindi aspettate ok direi che è più semplice di quello che immaginavo gli ho cancellato gli script sono andato semplicemente a prendermi il mio script muro quello di prima questo qui che faceva la rotazione vedete e faceva l'interazione e glielo metto semplicemente dentro quindi prendo questo script glielo infilo dentro vedete che c'è il muro qui c'è il game object che deve fare apparire o sparire quindi prendiamo l'altro cubo che è questo e glielo infiliamo praticamente dentro il game object quindi a questo punto il concetto è che tutti e due ruoteranno quando clicco questo farò apparire o sparire l'altro e quando clicco l'altro farò apparire l'altro quindi anche questo è una cosa interessantissima facciamo ctrl s facciamo il play e vediamo se funziona cioè se entrando lo vediamo ruotare tutti i due cubi ok vedete che i due cubi ci sono stanno ruotando questo qui se lo clicco fa apparire al solito e se clicco su questo ah no 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 quindi non dovevo metterci il mono behavior quindi la rotazione la fa però il behavior per prenderlo user bisogna farglielo separare però vedo che c'è un convert to ad on behavior che forse è interessante quindi lo faccio ok ah direi che così potrebbe anche essere interessante tra l'altro qui c'è anche interaction test quindi che potremmo cambiarlo e dire attiva cubo principale e in questo gli mettiamo non use ma gli diciamo vedi pannello grosso qui c'è la proximity entro quanto dobbiamo essere vicini per poter funzionare quindi se noi gli mettiamo che qui bastano anche 10 metri e qui anche 10 metri e vedete che è abbastanza tutto molto semplice quindi proximity cambiato gli abbiamo messo il convert to don e vediamo se funziona ecco vedete che anche da lontano posso usarlo però per sapere attiva cubo principale quindi lo clicco e vedete che è sparito se lo riclicco riappare vedi pannello grosso e quindi abbiamo il nostro ecco ed è molto interessante quindi ripetendo per riuscire a gestire con l'usharp è sufficiente mettergli direttamente lo script e poi utilizzare questo funzioncino di converti to don perché se no non regisce il tocco per il resto è tutto moderatamente semplice ed è quello che mi interessava è